Io devo dire che non ho un parere negativo su quello che è stato fatto dalla PC fino ad oggi a differenza di tantissimi che parla che continuano a dire che i tassi di interesse aumentano troppo bisogno di aggiornarsi cioè il percorso che ha la PC di fronte è già un percorso che porta a immaginare ragionevolmente un ulteriore aumento di 50 casi scolics e poi a quel punto se l'infazione come sembra tornerà a dei livelli di infazione e poi ci potrà essere un percorso l'anno prossimo in cui ci potrà essere una diminuzione di tassi di interesse ma noi siamo in un mondo che non tornerà mai più a tassi invertiti o tassi zero L'Italia in questo momento è quella che sta andando meglio rispetto a altre paese rotelle perché ha un modello di business delle imprese molto più diversificato quindi una forza assoluta delle imprese e ha un solitissimo risparmio delle famiglie mantiene come tutti i paesi componenti di sfiorganza, povertà e poi un debito pubblico elevato. Sulla regolamentazione è in dubbio che la regolamentazione da un lato ha consentito però di oggi di avere un sistema molto solido bancario quindi io non ho seguito di inserire in questo fatto molto lavoro anche su questo fronte è chiaro che però bisogna mantenere un giustitutio tra la regolamentazione e quello che è la necessità di sostenere imprese e famiglie che vuole essere certi di poterla rendere anche gli azionisti di un'azienda perché se tu non hai gli azionisti con te il tuo valore di borsa diminuisce e se diminuisce il tuo valore di borsa diminuisce anche il tuo peso specifico nell'ambito mondiale e abbiamo avuto una conversazione su questi temi ma certamente oggi l'Europa rispetto a Stati Uniti e in Cina sta diventando sempre più il soggetto marginale.